Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 16 maggio del 2020. Vediamo le notizie fondamentali sui giornali che oggi vi dico non essere così entusiasmanti, anche se ho fatto un po' tardi perché rispetto al solito me la sono presa comoda, d'altronde almeno il sabato una dormita in più non fa male. Però cosa c'è scritto sui giornali ve lo dico subito perché c'è stata una lunga riunione ieri notte tra le Regioni e Conte per capire come riaprire lunedì prossimo. Ogni giorno insomma c'è la sua pena, secondo il Comitato Tecnico Scientifico, secondo noi invece ogni giorno, ogni lunedì c'è la sua risveglio delle nostre sopite libertà e facciamo finta di nulla. Quello che succede è che sarà possibile muoversi da lunedì più liberamente all'interno delle Regioni, non saranno necessarie queste inutili e ridicole autocertificazioni, le distanze obbligatorie saranno ridotte a un metro sia nei ristoranti sia in spiaggia, questi sono i titoli del messaggero del quotidiano nazionale, vi faccio una sintesi di tutti quanti i giornali, quindi ci si muove, aprono molti più esercizi commerciali e le distanze saranno di un metro. Poi dopo ovviamente i giornali sono lì che vi spaventano perché la cartina del Corriere della Sera, il giornale unico del virus, si sta un po' diradando, ma il Corriere della Sera resta ancora forse il più acerbo nemico delle riaperture, perché tanto a loro chi gliene frega, beh insomma sul Corriere della Sera invece c'è la mappa del contagio. Ragazzi il contagio vuol dire nulla, perché anche l'influenza se noi facessimo una mappa, un po' come vi ricordate noi facevamo la conferenza stampa, muoiono 18 persone oggi, 100 persone, 200, 300, 1000 persone oggi, sempre alle ore 18 terrorizzando la popolazione. Io più che fare una conferenza stampa sulla conta delle morte, fare la conferenza stampa della protezione civile su che cosa stavano risolvendo, invece no sui morti, cosa su cui era come una specie di nostalgia e labù, mettiamola così. Però il punto fondamentale è che oggi, visto che i morti sono ridotti a livelli molto più bassi rispetto al passato, sapete qual è il tema? Il contagio. Il contagio vuol dire nulla, perché ci sono moltissime persone che si contagiano. Oddio qua c'è ancora qualcuno che dice non si vergogna, ma è fantastico, quelli che dicono non ti vergogni. Ragazzi se pensate che io mi devo vergognare di qualcosa, andate a quel paese, via, via, ce la fate? Vabbè, qua poi deve essere il cugino di un sindaco, cioè si deve essere presente qua il cugino di un sindaco che conosco io, il cuginetto di un sindaco che è diventato capo di gabinetto, no? Che lo ispira. Andiamo avanti. Il divieto delle seconde case resta per la fuori regione, quindi questi geni che cosa dicono? Se tu vai in una seconda casa fuori regione che è tua, che non rompi le scatole a nessuno, non ci puoi andare. In realtà questo atteggiamento dell'Italia, per le quali la nostra circolazione tra una regione e l'altra è impedito, fa sì che, non so, la Svizzera faccia un accordo con l'Austria e l'Austria faccia un accordo con la Germania, turistico. Il turismo già c'è ora. Noi abbiamo perso 30 milioni di turisti. Per questi cazzoni, per questi cazzoni, dai sindaci, sceriffo delle città, ai presidenti preoccupati del contagio, al comitato tecnico scientifico, al governo Conte, noi abbiamo milioni di persone che saranno disoccupate e senza lavoro. Poi andranno i loro sindaci sceriffi e gli faranno toc toc sindaco sceriffo, presidente sceriffo, De Luca, Conte, mi spiegate, mo come campo, i soldi miei chi me li dà? Ma glielo chiederanno dopo. Nel frattempo abbiamo i contagi bassi. E chi se ne frega, il problema non è il contagio, è la malattia. Chiaro che non ha nulla a che vedere con i contagi, però vaglielo a spiegare a tutti questi qua. Comunque, intervista a Bertolaso oggi sul Foglio, che dice una cosa, secondo me, molto ragionevole. E la cosa è molto semplice, cioè ragazzi, facciamo a tutti quanti i tamponi, che è l'unico motivo per il quale noi si possa isolare le persone contagiate, appunto, che sono asintomatiche, appunto, e che possono diffondere la malattia, appunto. Mi sembra banale, ma insomma questa roba qua evidentemente non la segue nessuno. Nel frattempo le seconde case e le regioni potranno essere aperte e quindi finire la quarantena sostanzialmente quando si viene dall'estero dal 3 giugno, il che vuol dire che alberghi, ristoratori, tutti quelli che lavorano nel terrorismo fino al 3 giugno sono fottuti, fottuti! Qua noi abbiamo fottuto i baristi, abbiamo fottuto i ristoratori e fotteremo anche il turismo, ma siamo tutti contenti perché non avremo, come possiamo dire, non avremo contagi. Senza contagi, ma tutti morti di fame. Come dice un epidemiologo, scusatemi, uno scienziato, un medico come Remuzzi, l'ho detto a Quarta Repubblica, l'ho detto all'altro, solo che Remuzzi ovviamente viene ascoltato meno da questo comitato tecnico-scientifico di fenomeni. Ci vuole Vespa, Bruno Vespa, per spiegare questo decreto, lo fa magnificamente in 50 righe, la sapienza di un giornalista televisivo che in 50 righe vi spiega cos'è che non va in questo decreto. Una sa tutte. Sono stati dati 6 miliardi per le piccole imprese e sono stati dati a fondo perduto, ma lui dice ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che cosa vuol dire? Vuol dire che un'azienda che ad aprile del 2020 ha perso almeno più di un terzo, ha avuto, scusatemi, ha perso un terzo degli incassi del aprile 2019, cioè se aprile 2020 è fatturato zero, nell'aprile 2019 è fatturato 10.000 euro, beh, loro ti danno una quota tra il 10 e il 20% del fatturato perso, il che vuol dire niente, vuol dire zero. Cioè il punto è che a questi imprenditori, sì, gli danno un piccolo caffettino tra i 1.000, 2.000, 3.000 euro, ma il punto non sono i 1.000, 2.000, 3.000 euro di fondo perduto che gli danno, questi cazzoni che ci governano, i sindaci sceriffi, i presidenti sceriffi, i conte sceriffo, tutti i nostri sceriffi, non si rendono conto che il problema non è soltanto ridare a loro 4 soldi in saccoccia, perché sono 4 soldi in saccoccia, ma che non gli permettono di riaprire e guadagnare quello che guadagnavano prima. Questo è il punto fondamentale, cioè nei prossimi mesi questi continueranno ad avere norme su norme, come spiega bene oggi Vespa, che li ammazzaranno, li ammazzaranno, ma continuiamo così. Tra l'altro è fantastico perché Vespa giustamente definisce questo decreto legge, che poi vedremo, ancora io non l'ho visto perché ancora non è stato pubblicato in gazzetta ufficiale e lo stanno ristringendo, più che un decreto legge per il rilancio del paese, per il sostegno. Nel frattempo questi geni, che cosa si sono inventati? È la prima pagina del Sole 24 ore, si sono inventati il rischio per un datore di lavoro, cioè per esempio per un albergatore che dovesse aprire con i distanziamenti, avendo perso il fatturato di aprile a maggio, senza un euro in più sostanzialmente ottenuto, sapete cosa rischia? Rischia di essere processato per motivi civili e penalistici se qualcuno che si ammala di Covid all'interno del suo albergo. Bene, ovviamente oggi il Sole 24 ore dice, aziende che rispetteranno i protocolli non verranno denunciate, eccetera, ma voi vi fidate? Voi vi fidate dei sindacati? Voi vi fidate del dipendente che magari è un po' incavolato con voi, poi non vi faccia una denuncia presso l'INAIL, che già oggi in una circolare è stato piuttosto equivoco? Voi vi fidate del fatto quotidiano che oggi gode già 40.000 denunce nei confronti dei propri datori di lavoro? 40.000! E questi qui, distanziati, senza un euro, senza gente che arriva in Italia, il 3 giugno si apriranno le frontiere, mentre gli annetti le stanno aprendo ora rischiano pure che gli vengano denunciati. Ragazzi, che siamo scemi, si trama uno sindaco sceriffo che va là e fa il fico con la polizia municipale pagata da tutti quanti noi. Com'è stato cugino, capo di gabinetto? Sindaco, toc toc! Vabbè, quando arriviamo a vedere questa roba qua, tu capisci che gli imprenditori poi dicono ma sapete che c'è di nuovo, se c'ho due risparmi andatevene tutti a quel paese, chi non farebbe così? Nel frattempo ci sono altre due storiette su questi decreti, quella della FCA, la Fiat, si prende 6,3 miliardi di prestito e devo dire la verità che è una cosa che a prima vista la citano tutti i giornali, ieri era uno scoop di MF di cui vi avevo parlato, mi è venuto anche il sangue a cervello a me, ma come? Non riescono a prendere i soldi nessuni, soltanto la Fiat riesce a prendere i soldi della Sace, perché ho visto l'altro giorno che erano soltanto 4 le domande accettate della Sace sul Corriere della Sera, 250 le domande, 4 accettate, se ne è aggiunta una quinta, sostiene MF, tutti oggi la dipendono, è quella della Fiat, 6,3 miliardi di euro garantiti dalla Sace e poi dallo Stato, allora uno guardandola così si può arrabbiare, dice ma cavolo, proprio la Fiat che tra l'altro ha spostato la sede legale ad Amsterdam, la sede fiscale vatte la pesca ed è d'italiano molto poco e di più qualcuno, come è il fatto quotidiano di oggi, dice ma glieli dà intesa quella di Carlo Messina che aveva detto che non si dovevano prestare soldi alle aziende italiane che avevano trasferito all'estero le loro sedi, insomma una specie di plotone di esecuzione, poi leggo la marchetta perché tale è ispirata chiaramente dall'ufficio stampa della Fiat del Corriere della Sera però qualche volta le marchette servono perché servono per ragionare e ho letto alcune cose che ci sono scritte in questa marchetta punto primo, la Fiat ha chiesto un prestito in realtà riguardo alla sua filiale italiana che fattura 27,7 miliardi ed è finalizzata a mantenere e pagare investimenti e stipendi in Italia in più, me l'ero dimenticato ma lo sapevo, chiunque prende questi prestiti garantiti dalla Sace si impegna a non licenziare allora dico io primo, la Fiat ha preso 6,5 miliardi ce ne sono altri 180 miliardi disponibili per le aziende grandi italiane che non mi sembra che stiano facendo la corsa a prendere questi soldi quindi non ha tolto i soldi a nessuno secondo, se prendesse veramente questi soldi cosa che non ha ancora fatto se la Fiat prendesse davvero questi soldi non potrebbe licenziare un operaio che era il motivo per il quale io criticavo questo prestito perché dicevo tu a un'azienda che sta male gli dici prenditi dei soldi sì, glieli fai pagare poco però poi dopo gli dici che non può neanche licenziare nessuno nessuno se li prenderà quindi se la Fiat dovesse prendere questi soldi ho letto il pezzo di Savelli sul Corriere della Sera ed è interessante proprio per questo avremmo inchiodato la Fiat all'Italia e la dovremmo obbligare a non licenziare neanche una persona insomma, non è così sbagliata questa idea perché comunque il prestito è vincolato all'Italia certo se uno vuole esercitarsi nell'arte dell'odiare la Fiat che è una cosa che noi da almeno 50 anni facciamo beh, insomma, trova molti appigli ma ce ne sono altri anche per dire ma chi se ne frega insomma, si prendesse questi soldi tanto a noi non li toglie nessuno e se mantiene produzione in Italia penso che faccia bene a tutti il problema magari è spiegare a questo governo per quale motivo ha incentivato con 150 milioni le bici e i monopattini elettrici e invece alle auto lo ha dato zero se non 100 milioni per le auto elettriche toc toc forse questo è il problema cari amici miei e cioè che noi un settore importante come quello dell'auto non lo aiutiamo ma ci facciamo le pippe sull'elettrico l'ecocompatibile eccetera tra l'altro oggi la questione del bonus 110% più andiamo avanti e più si capisce che sarà un flop questo bonus per le risultazioni di lizie perché potranno adottarlo soltanto i condomini in realtà con mille cave a passare di due gradi di due scalini insomma, avete capito che questa roba qui non ve la fate nel vostro appartamentino in città poi altre cose a proposito di Messina fa un'intervista al numero uno della intesa a Messaggero a Osvaldo De Paolini insomma un'intervista generale parla anche della sua offerta a Lupi la cosa più importante che dice secondo me al governo ora sbloccate però i cantieri perché qua se non fate i cantieri siamo morti altra cosa di cui il governo si è completamente dimenticato oltre a questo però Messina che cosa chiede chiede di prendersi il MES perché dice ragazzi se prendiamo sto MES risparmiamo 7 miliardi di euro in interessi altri temi che vi segnalo è il virus comunista titolo fantastico di Sallusti oggi sul giornale perché lui dice ragazzi stiamo indignandoci è l'unico che titola diversamente rispetto alla riapertura dei negozi e delle regioni perché cosa dice Sallusti beh noi stiamo qua a come si dice a questionare su Silvia Romano sul fatto che sia ci sono gli insulti sbagliati di destra eccetera orribile eccetera e nessuno sta qua a questionare che stanno insultando e stanno minacciando il governatore della Lombardia Fontana e che ad esempio cita Sallusti Lasciarelli grande giornalista di Retré dice che quello che è avvenuto in Liguria è un genocidio sanitario genocidio sanitario Domizio è un cretino andiamo avanti sulle sulle questioni ciao Camillo ciao Milco siamo d'accordo il vero pozzo senso fine all'Italia ecco poi sull'Italia ce ne sarebbe bello da raccontare all'interno di questo decretto dovremo vedere come funziona Ferrara fantastico a proposito Milco di questioni come si chiama di compagnere stupendo perché oggi Ferrara sulla prima pagina del foglio quotidiano ci si spiega in maniera un po' elitaria un po' come posso dirti romantica che bello finito questo mondo di straccioni che va nelle low cost in cui stiamo così stretti in cui ci sono quelle file orribili e adesso finalmente potremo ritornare a volare large allora io sono d'accordo a me l'allocosto quando mi prendono l'allocosto sto stretto mi posso mettere il bagaglio mi trattano di merda mi fanno pagare anche l'acqua che bevo cioè non è che sono così contento chi può non le prende ma chi non può grazie all'allocosto può girare per il mondo allora caro Ferrara il problema vero è che questo mondo dell'allocosto purtroppo è il mondo diciamo delle auto e tu sei ancora rimasto forse alle carrozze che forse potevano anche essere più belle più romantiche anche più scomode però comunque davano il senso di un antico regime che non c'è più il nuovo regime è quello che ci si può spostare anche senza essere dotati di miliardi di euro anzi milioni di euro anzi centinaia di milioni di euro anzi migliaia di euro un allocosto ti permette di andare con poche decine di euro da una parte all'altra del mondo brutto? no secondo me è meglio rispetto a quanto avvenisse nel passato poi l'ultima cosa riguarda Buonafede beh lì è stupendo ma qua c'è ah qua ci sono tutti quanti gli amici del sindaco e del capo di gabinetto cugino di Forte De Marmi ciao 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 io non chiedo scusa a nessuno meno che mai al cugino del sindaco di Forte De Marmi che è stato piazzato a fare il capo di gabinetto che sta scrivendo qua adesso in questo momento sul sito e l'altra questione fondamentale straordinaria sapete qual è? riguarda il come si chiama? Buonafede beh ma su Buonafede è stupenda oggi il travaglio lo strillone come si chiama lo strillone del governo di Conte del Movimento 5 Stelle beh è stupendo oggi travaglio difende Buonafede e perché lo difende? perché si è dimesso il suo capo di gabinetto ma come? nel giro di un mese si dimette il capo del DAP cioè l'uomo più importante di nomina diretta del ministro che guadagna 300.000 euro all'anno 300.000 euro all'anno ed è molto più degli altri e lo continuerà a guadagnare a vita anche quando si dimette beh nominato da Buonafede per far posto a Di Matteo che Buonafede alla fine non sceglie si dimette e non succede nulla si dimette il capo di gabinetto di Buonafede perché viene intercettato con Palamara che è indagato per corruzione quello che è non so se è corruzione per carità viene indagato Palamara beh si dimette anche il capo di gabinetto e travaglio difende Buonafede ma ragazzi ma scusate ma immaginate che al posto di ci fosse un altro ministro della giustizia ma ragazzi si dimettono il suo capo di gabinetto il capo del DAP cioè due riporti fondamentali che ha scelto lo stesso ministro personalmente si dimettono perché invischiati in brutte storie perché anche Basentini oggi a me io poi non ce l'ho contro questi magistrati non lo so come la pensano si dimettono tutti e due e il ministro della giustizia secondo travaglio è un fenomeno oggi invece vai a vedere cosa succedeva nelle chat ma legge anche il riformista di quel cattivone di Sanzonetti Buonafede tradito travolto nella lotta tra le bande manettare è il titolo di Sanzonetti che spiega esattamente cosa è avvenuto in questa vicenda un grandissimo abbraccio a tutti quanti voi noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it per tutte le informazioni di giornata ho scritto un pezzo sul turismo che è diventata la mia nuova passione nel senso che non si può pensare di chiudere l'Italia e consegnarla a questi quattro deficienti dei nostri sceriffi e noi ci vediamo lunedì sera con Quarta Repubblica e domani con la zuppa ciao